Sai comunicare in modo efficace? Saper comunicare bene è la chiave per raggiungere il successo. Una parola rispetto a un'altra può cambiare completamente le carte in tavola. Ecco qua qualche consiglio per comunicare in modo efficace. Il corpo parla insieme a noi, quindi attenzione a come ci posizioniamo nello spazio. Cerchiamo di rimanere dritti con le spalle, guardare l'interlocutore negli occhi e annuire ogni tanto. Cerchiamo di non iniziare mai una frase con la parola NO. Questo crea inconsciamente dall'altra parte una sorta di chiusura. E quando rispondiamo a qualcuno non iniziamo mai la frase con il MA o il PERÒ. Questo dà la sensazione a una persona che non la stessimo veramente ascoltando. Il tono di voce è altrettanto fondamentale. Tieni un giusto tono di voce, non troppo alto, ma nemmeno troppo basso. Prova a seguire questi consigli e vedi se c'è qualche cambiamento.